Bella a tutti frienze e benvenuti in un nuovo video, ci troviamo su Fortnite Se ancora non avete terminato le sfide Fortnite e l'incubo affrettatevi a farlo Perché come ci twitta Fortnite manca semplicemente qualche ora al termine di queste challenge Sul mio canale ovviamente trovate tutti i video dedicati per terminare queste challenge Nella maniera più semplice in assoluto Signori e ufficiali il piccone minti verrà rilasciato da GameStop Come vi mostro da questo volantino appunto dell'azienda di GameStop Sulla sinistra possiamo osservare uno sconto interessante del pacchetto DeepFrozen Insieme al nuovo pacchetto DarkFire Questo pacchetto verrà rilasciato in data 5 novembre E ovviamente appena uscirà ci farò un video a riguardo Il prezzo si dovrebbe aggirare intorno ai 25€ Ma quello che noi interessa è la notizia in basso sulla sinistra Appunto dove c'è indicato questo piccone minti Una cosa davvero interessante è che potremo ottenere questo piccone Non solo acquistando le card dei V-Bucks come vi ho detto nei precedenti video Ma come ci sottolinea questo annuncio Possiamo acquistare questo piccone ottenendo qualsiasi prodotto ufficiale di Fortnite Quindi anche acquistando per esempio uno di questi tre articoli Ci verrà assegnato gratuitamente il piccone minti Non è niente male perché se vi volete acquistare un gadget di Fortnite Questo è il momento giusto per farlo Quando uscirà questo piccone? Uscirà il 6 novembre Quindi il giorno dopo dell'uscita del pacchetto DarkFire Ora è da vedere se la data è confermata anche per l'Italia Perché in Francia e Germania uscirà il 6 Quindi penso che vada a rappresentare tutta l'Europa Però ancora non c'è la notizia ufficiale Ieri comunque sono andato a parlare con un ragazzo di GameStop Che lui mi ha detto che non è assolutamente a corrente di questa offerta Che farà Fortnite in collaborazione tra virgolette GoGameStop Però sicuramente arriverà anche qui in Italia Quindi se sei nuovo mi raccomando iscrivetevi a questo canale E attivate la campanella delle notifiche Perché appena ci saranno maggiori dettagli riguardanti l'uscita in Italia di questo piccone Ci farò sicuramente un video Ma è un buon 90% che il 6 novembre lo vedremo all'interno di tutti i GameStop d'Italia Ah prima di passare a vedere lo shop di oggi Scrivetemi qua sotto nei commenti se volete The giveaway dove vi regalo il piccone E a questo punto anche V-Bucks Perché io ovviamente andrò a shoppare le card dei V-Bucks E vediamo magari più card shop o più picconi mi dovrebbero dare gratuitamente Perché solitamente la formula è Compri una card V-Bucks ti danno in omaggio un piccone minti Però non è sicuro Magari una sola persona fisica può acquistare svariate card Ma danno sempre solo un codice promozionale in minti Vediamo come andrà a finire Magari trovo un impiccio sotto banco quelli di GameStop Oppure mi presento con 10 persone diverse Così mi danno 10 picconi minti Da givare tutti per voi Quindi scrivetemi qua sotto nei commenti Se volete questo contest sul piccone Eccoci arrivati Manca solo qualche secondo Ci tengo a ringraziare di cuore davvero Tutti quelli che utilizzano il mio supporto a un creatore Rasco trattino basso omg Grazie grazie mille a tutti voi Sia perché potete entrare all'interno di tutti i contest che sto facendo E grazie mille anche a chi lo utilizza Solamente per supportarmi Quindi grazie grazie mille davvero a tutti quanti voi 6 5 4 3 2 1 Oh subito l'occhio sulla sinistra Ma che è sta roba Regà Non è uscito niente di nuovo Deve uscire ancora 6 skin di Halloween Ma dove sono? Dai ma fa ridere questo shop Primo oggetto in evidenza nello shop La skin Vrite Eccola qui Furia in italiano E' una skin composta da 4 stili Questi stili si sbloccheranno attraverso delle challenge che trovate già caricate sul canale Perché è già uscita un po' di tempo fa questa skin Ovviamente a parte i colori della skin variano anche i colori del backpack Questo backpack che è davvero molto molto carino E ci verrà fornito oltre alla skin, le sfide, il backpack Anche questi due picconi Andiamo a sentire il suo sound Metallico Freddo Rovente 1600 V-Bucks Per tutto il set Eccola qui E' tornata anche oggi La skin che è uscita ieri Quella di cappuccetto rosso Con questi due stili Che preferiscono nettamente lo stile molto più tranquillo Senza il lupo che gli va a mangiare la testa Ce ne è fornita con questo backpack Che è davvero molto molto carino 1500 V-Bucks Per lei Che tra l'altro dovrebbe essere Manny La skin leggendaria di un po' di season fa Per concludere il set abbiamo Ascia Cattivona Andiamo a sentire il suo sound Bella fresca, bella croccante Ma guardate un po' la descrizione per spicconarti meglio 800 V-Bucks per lei Anche oggi ritroviamo la skin Delirio 1500 V-Bucks per questa skin Che ha la particolarità di questo backpack Che è fuori controllo Stupendo Proseguiamo col suo piccone Bastone incantato Andiamo a sentire il suo sound Duro, legnoso, temistocro 800 V-Bucks per lui Proseguiamo con la skin Cicuta Questa skin della strega Che come potete vedere ha questa animazione Che si svolge anche durante il game Infatti è l'unica skin presente attualmente all'interno del gioco di Fortnite Dove lo stile varia in game Ce ne è fornita anche con questo backpack 1500 V-Bucks per la skin Le moto integrata e il backpack Ovviamente anche lei ha il suo piccone di riferimento Ascia streghesca Andiamo a sentire il suo sound Goliardico, mite, facino rosso Piccone da 800 V-Bucks E chiudiamo il set di arti arcane Con questa copertura che è spettacularis Regà, bellissima questa copertura Animata Davvero molto molto bella Mi piace molto il gioco di questi tre colori Viola, rosato, verde e bianco Bomba di copertura da 500 V-Bucks Chiudiamo gli oggetti in evidenza Con questo set mostri terrificanti Abbiamo Boccaccia Eccola qui questa skin che è orribile Solo denti Ci viene fornita anche con questo backpack 1500 V-Bucks per lui Ovviamente anche lei ha il suo strumento di raccolta di fiducia Denti Andiamo a sentire il suo sound Grosso, pesante, robusto Piccone da 500, non è vero 800 V-Bucks Concludiamo il set con la copertura zannuto Questa copertura che è animata Infatti si muove Non mi fa impazzire questa copertura Dove c'è appunto la particolarità Anche qui dei solidi dentini 500 V-Bucks per questa Cops Andiamo a finire gli oggetti in evidenza Per oggi abbiamo Starter Questa skin da 1200 V-Bucks Con questo backpack che è orribile Però la skin è molto sottovalutata Per me è davvero molto molto bella questa skin Molto slim, molto semplice, molto basic Non male Andiamo a vedere la prima emote di oggi Billy Rimbalzello È un emote attraversamento Quindi si muoverà durante il corso del game Mentre la farete all'interno del game 500 V-Bucks per questa emote Andiamo a vedere la nostra skin da 800 per oggi È Fionda Mmmmm Mmmmm Non mi fa impazzire Preferisco lo stile giallo Che è tale e quale Sempre da 800 V-Bucks Uh, guarda qui chi ci è rivenuto a trovare Pugno del re della tempesta Questo piccone è uno dei miei preferiti Per quanto riguarda questa season È bellissimo Sentite qui che sound Potente, divino, Re Artù 800 V-Bucks per questo piccone Secondo emote per lo shop di oggi Dacci dentro Sexy balletto da 500 V-Bucks Andiamo a chiudere lo shop di oggi Con un'altra emote saltelli 200 V-Bucks per tenersi sempre in forma Signori mi raccomando Il mio supporto è un creatore RASCO-BASSOOMG Se anche voi volete trovare gratis Dentro casa dei barattoli della Nutella Io li trovo sempre perché utilizzo RASCO-BASSOOMG Signori spero che anche questo video vi sia piaciuto Grazie mille a tutti quelli che hanno lasciato un bel like Condividetelo con tutti i vostri amici Iscrivetevi al canale Attivate la campanella delle notifiche Ci vediamo questa sera come tutte le sere Dalle 21 fino a mezzanotte In live E... Le belle Misami